Insomma a scenari più ampi, la Juventus avrà poi dopo la sfida di San Siro anche una gara molto importante in Champions League contro il Bayern di Monaco e volevo chiedere che impressione ha di questa Juventus, può arrivare in fondo in Europa, adesso siamo arrivati un po' al crocevia ai faccia a faccia contro le grandissime squadre e poi le chiedo anche da grande esperto di mercato, si parla di tanti nomi del famoso e ridondante top player per l'attacco Cosa ne pensa in tal senso? Cominciamo col top player, hanno già preso l'Orente, penso che davanti siamo più che completi, devono soltanto cedere qualcosa per cui il problema praticamente davanti non credo che si ponga, il problema invece della partita e se la Juventus si può andare avanti quello è un po' più compresso anche perché il Bayern Monaco, anche se attualmente non è nella forma di qualche mese fa però è sempre una squadra ragguardevole che viaggia con 18 punti di vantaggio sulla seconda in campionato nella Bundesliga per cui è sicuramente un impegno gravoso, ma è un impegno che la gente può anche assolvere che abbia chance di vittoria finale non credo, però che possa andare avanti ci sta anche se è difficile passare il turno